che giornata impegnativa quanti appuntamenti ma per fortuna è finita e per fortuna c'è lui google home il mio assistente personale di fiducia ok google qual è il mio prossimo appuntamento il tuo prossimo incontro è intitolato cena con giulia ed è oggi alle 20 scopriamolo insieme risposte in tempo reale possibilità di controllare la nostra smart home gestione dei contenuti di intrattenimento preferiti disponibile in due modelli google home e google home mini google home e google home mini sono smart speaker con assistente google integrato controllabile con la voce quindi sarà sufficiente iniziare con ok google per ricevere risposte in tempo reale su ciò che vogliamo sapere per esempio aggiornamenti sul meteo sul traffico finanza notizie sport e tanto altro ok google quante calorie ha la torta di mele 237 calorie in 100 grammi potremo restare al passo con tutti gli impegni della giornata e ricevere aiuto per l'organizzazione della nostra agenda per il tragitto giornaliero per l'itinerario di viaggio e molto altro ok google quanto tempo ci impiego ad andare in duomo c'è traffico intenso sulla strada verso duomo di milano il tempo previsto è 38 minuti potremo usare i comandi vocali per spegnere la tv abbassare le luci o controllare il termostato google home è compatibile con più di mille dispositivi intelligenti come le lampadine philips you e il termostato nest se utilizziamo google home insieme a un dispositivo chromecast potremmo controllare i nostri contenuti di intrattenimento preferiti usando semplicemente i comandi vocali riprodurre film e programmi di partner come netflix youtube e tanti altri google home e google home mini sono smart speaker con assistente google integrato google home è disponibile nel colore grigio chiaro e google home mini nei colori grigio chiaro e grigio antracite quindi potremo scegliere il colore adatto ai nostri ambienti e al nostro stile ok google spegne la tv ok